buongiorno ragazzi siamo tornati con un video tutto nuovo di un gioco che non conoscete proprio si chiama in questo gioco bisogna usare il cervello e cercare di prendere 3 stelle noi abbiamo preso 3 stelle in moltissimi dei quadri e non li cominciamo da capo così ve li facciamo vedere tutti qui basta fare un netto facile e prendiamo 3 stelle ottimo cos'è questo? non c'è il bonus ah dai soldi ah i veri soldi grattissi sono inizio a scordare completo e devi dare un po' di più porca miseria riprasse che capo spin vediamoci la cala 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50, 2,50 vuoi più poco? non mi ripoco però 50 o meno dai 50 non è male ok next level vedete sapere ci sono tutte le lingue tranne l'italiano come sempre no tranne neanche lo spagnolo non c'è 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 neanche lo spagnolo skip 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 3 stelle anche qui in 3 secondi 3 livelli tutte 3 stelle ma questo sono anche più facile non c'è neanche lo spagnolo non c'è neanche lo spagnolo non c'è neanche lo spagnolo per ora ci abbiamo in tutto il primo mondo non c'è neanche lo spagnolo non c'è neanche lo spagnolo 100 100 100 ok 100 100 100 100 sei a tre passi dall'ottenere ricompense per i giochi 1 abbiamo tolto il gioco e l'annuncio non ce l'ha completato livello chiestiamo cinque queste sei questo non l'hai fatto come hai fatto infatti non l'hai completato e me l'ho scordato adesso diciamo di sicuro il concetto che hai fatto nell'angolo potrebbe darci problemi senza cance di pari perfetto avventi hai preso il mino possibile ma non fa niente ma sicca di prendere un po' di più ma sono prendendo tutti quanti di sempre di questo cosa devo fare? si sulla bottiglia ah 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 è facile questa sarà un po' il cervello che è facile questo giusto? io non ho vado io, faccio io sali, sali edi prima del 40 che stava a 50 ma te ci sei ah ma non devi guardare la mince no, basta che lo fermi ma lo stai più in alto, ma io lo fermo che stava a 50 e ci sono a 40 nel mondo 1 a quanto sta e in 2 ci mancano pochi livelli ce ne mancano 4 in questo video completeremo tutto il primo mondo no, nel primo 9 ci mancano solo 3 livelli e ci lo facciamo e ci lo facciamo con il secondo e il terzo perchè questo primo è stata una stupidata il primo se lo lasci così vedi se quant'ora entra se lo facciamo fare basta che fai la riga di quello schifo vediamo quanto entra magari ce la facciamo non ce l'abbiamo fatta e chi si fa un po' più corta la riga basta, ecco qua decido devo sapere un po' più cortè in questo livello e se gli do' un po' più corto e chi guarda quelli pezzi di non piede non devi fare così guarda nooo anche così va bene lo stesso però non era questo si era questo stava a fare un triangolo secondo me fa il giusto schifo eh non inizialo piglio però si saranno 90, 100, 120 10 vale 20 l'ultimo l'ultimo è compatibile il secondo è pieno vediamo il secondo mondo che cos'è vediamo il secondo mondo che cos'è il secondo lo mettiamo però facciamo il video la prossima volta nooo a 5 lo so pochi ma questo non si carica per usare qui e non fa niente siamo a casa mondo 2 andrea non ho fatto il mondo 2 che sono le esplorazioni musiche che faccio in completo guarda neanche una singola voce tu dici che c'è? ma che sta tenendo l'audio? ma scendendo aspetta mi ricorda questo non si fa faccio un quadrato per le mattine che mi ho detto no ok adesso le registri le stelle proprio in millimetro avevo preso dei stelle poi ci saranno il 14% ogni volta è sempre il 14% pure se stelle scende intanto non cambia niente non cambia niente non cambia niente se pure questo ci mettiamo a 5 minuti però non cambia niente si poi lo facciamo tutti quanti facciamo video di 8 ore perché scusa se no quando non si carica più user siamo da 7 minuti e abbiamo comprato già il primo mondo e quasi il secondo ma non lo so non lo so non lo so questo mi pare che si faceva così no? si si faceva così altalena 1 1 3 2 1 2 2 2 2 Quattro, manco, non si può nonno Cos'era semplice? Molto facile 100 Non si, non si può nonno Iscrivetevi Non so sceglie 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 questo io l'altra volta ho preso i 3 stelle mi ha fatto sempre... io stavo... io stavo su 21 e ci devo attorci non serve a niente non serve a niente oppure forse devi guardare i video per fare un gioco così guardi i video per toccare ma chi fa il video su questo gioco subito? vedi sempre 14 allora salta perciò ti da sempre 14 ah hai capito? se vedi il video quello ti fa fare il punteggio di più se no tu fai salta è quello che hai 14 non si può sollevare in questo non si può sollevare in questo non ci si è in questo non si può sollevare perchè adesso vi faccio vedere a fuori molto su che ho superato questo 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 e questo in tutti questi livelli che ho superato fino a qui ho superato ho preso in tutti quanti le 30 stelle quindi non mi servono gli indizi se mi libero a termine anche io se è la stessa cosa che è tempo l'audio? hai sentito la nostra ora un poco dopo cosa basta? allora Sì, sì, sì. Sì, è vero. ho fatto vedere prima hai visto? si di capped sul telefono hai visto? si e cosa ho fatto a dirlo? hai fatto gli artagiosi la normale geni gelatina non lo abbiamo fatto sul telefono no in un video vi faremo vedere come farli ci fermiamo? no come to questo mondo dico bene che io lo so penso si si ponga no no livelli 5 livelli si ti deve dare a 30 perchè ma ce l'ho tutti a 30 si 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 Cosa hai detto? Mi sa che sei bugiardo Si piccina dentro il mio occhio Aspetta E' un piccolo E' finora E' un'altra cosa Questa è ancora Mi ricordo che è un nemico Ok Aspetta, non lo vedo, penso di sì 29 dobbiamo fare Ancora E dobbiamo fare questo e un altro Ma la mano non fa niente Ah, era facile Anche la palla non scivolava Ultimo livello 38 In poco più di 10 minuti 15 minuti abbiamo mostrato 30 livelli di questo giorno Anzi, così siete a posto Non siamo a posto Perfetto ragazzi Tra le stelle anche qui Se il video vi è piaciuto Mi raccomando iscriviti al canale Sempre al Z96 Mi piace un bel like Commentate se non volete Ci vediamo al prossimo video Ciao da Papi E da Sommi E come potete vedere Nei primi tre mondi Tutte e trenta listine Ciao a tutti Ciao Ciao Alla prossima Ciao